ciao vi devo proprio raccontare quello che mi è successo l'altra sera stavo lavorando da ormai un mese alla realizzazione di un videocorso e la cosa mi ha portato via anche veramente tante notti di lavoro ed ero ormai arrivato alla conclusione di questo progetto e ormai sera tardi ero stanco avevo veramente anche voglia di andarmene a dormire però prima di andarci mi sono deciso di fare un po di pulizia e di liberare il mio hard disk da tutta una serie di file che ritenevo vecchi e che quindi potevo tranquillamente buttare ed è quello che effettivamente ho fatto soltanto che per distrazione ho fatto questa operazione qua sono andato a selezionare una cartella invece che un'altra forse perché si chiamava in maniera simile ho dato il comando butta nel cestino io ho anche dato il comando svuota il cestino vi giuro che nel momento in cui ho dato il comando svuota il cestino quasi nel stesso istante mi sono reso conto che stavo cancellando un mese di lavoro mia moglie che mi ha visto sbiancare quasi stava per chiamare il 118 è stato un momento veramente di sconforto enorme il rendermi conto che per distrazione avevo letteralmente distrutto un mese di lavoro intenso tuttavia questa storia ha un lito fine perché perché io sono un devoto della religione del backup cioè ho diciamo identificato una serie di strumenti che sono il tema di questo video che voglio condividere con voi che mi permettono di avere sempre una coppia di quello che io faccio affinché nel caso si verifichi come la situazione che ho appena vissuto un caso del genere per cui buttateci lentamente via dei file oppure il vostro a disco il vostro computer si rovina bene il frutto del vostro lavoro deve essere sempre ricopiato e presente anche su altri dispositivi affinché lo possiate recuperare nel caso il vostro dispositivo di lavoro si danneggi fare il backup è un qualcosa di importantissimo faccio veramente quasi fatica a trovare un dispositivo una soluzione hardware bar software più importante del backup è un po come effettivamente stipulare un'assicurazione che magari non la userete mai e si spera anche che sia sempre così però la volta che vi serve vi può veramente salvare la vita sotto certi aspetti allora vorrei dare un indicazione su come io ho creato e utilizzo dei sistemi di backup che mi permettono di davvero avere una direi elevata sicurezza del fatto di non incorrere nel rischio di perdere il frutto del mio lavoro i miei file partiamo dal primo concetto innanzitutto un sistema di backup a mio modo di vedere deve essere un qualcosa di il più automatico possibile cioè non deve essere un qualcosa che richiede operatività intervento da parte vostra perché lo possiamo facilmente immaginare perché se deve funzionare col nostro intervento sicuramente noi o non ci abbiamo voglia non ci abbiamo tempo non ci ricordiamo insomma in qualche modo non ottemperiamo l'attività di backup del nostro hard disk e del nostro computer per cui deve essere un qualche cosa che buon sì chiaramente la prima volta lo imposti e poi te ne devi dimenticare il secondo aspetto secondo me altrettanto importante è il metodo di archiviazione e di backup che dovete adottare perché perché dobbiamo immaginare che le nostre copie di sicurezza dei nostri file devono essere da un lato sempre accessibili e pronti all'uso nel caso appunto si verifichi un'emergenza o un disastro ma dall'altro devono intrinsecamente essere loro stessi sempre al sicuro quindi che in una situazione per cui non incorriamo nel pericolo che anche il nostro backup in qualche modo si alteri si danneggi o quant'altro quindi partiamo dal primo aspetto la semplicità allora io sono un utente mac molti di voi lo sapranno e quindi il primo sistema di backup che mi viene spontaneo utilizzare è senz'altro time machine time machine è il sistema di backup nativo quindi di Apple di macOS che sappiamo vi permette in maniera anche qui perso che automatica di fare un backup su un interdisco esterna tipicamente o potrebbe comunque anche essere un NAS o un disco di rete su questo poi ci torniamo dopo il sistema dal mio punto di vista è abbastanza valido dico abbastanza perché è una cosa che io personalmente non amo molto è che la struttura del backup avvenga attraverso un sistema diciamo proprietario del software di backup intendo dire che la maniera con cui time machine scrive i file di backup sul vostro hard disk esterno quindi un disco dedicato a fare il backup della vostra macchina non è esattamente come ci aspettiamo sia la copiatura di file attraverso il finder quindi avremo diciamo necessariamente la situazione per cui il file di backup come vedete non sono fondamentalmente utilizzabili direttamente da parte mia semplicemente sfogliando attraverso il finder il backup che time machine realizza questo a me non mi fa impazzire perché perché significa che io sono vincolato strettamente all'utilizzo di time machine per riperire i miei file e questo è una cosa che sinceramente non amo moltissimo sotto questo punto di vista invece io sono un grande sostenitore di un altro applicativo che esiste da tantissimi anni forse quasi da sempre in ambiente apple che si chiama carbon copy cloner carbon copy cloner è strepitoso per tanti aspetti innanzitutto vediamolo quindi lo lancio eccolo qua innanzitutto una finestra estremamente semplice come vedete è il programma è veramente tutto qua che cosa permette di fare carbon copy cloner inizialmente era uno strumento pensato per fare un clone del vostro hard disk bootable cioè che io potevo utilizzare anche come disco di avvio e a tutt'oggi fa anche questo poi si è successivamente evoluto per permettervi di fare anche un backup automatico del vostro hard disk come funziona banalissimo ed è questo anche qui la cosa che mi piace lo vedete ok qua mi dice qual è la sorgente la sorgente gli dico che è il mio hard disk interno boom qual è la destinazione diciamo che la destinazione sia per esempio questo disco qua schedule quindi programmazione programmazione se io ci faccio un clic che posso scegliere che lui faccia periodicamente quindi la copia del new hard disk su quell'altro ad intervalli regolari per esempio gli posso dire che so ogni giorno a una talora per esempio così facendo e dicendogli semplicemente quindi di partire boom carbon copy cloner fa esattamente quello che gli ho chiesto di fare e una delle sue peculiarità innanzitutto è che un razzo è veramente velocissimo nelle operazioni di copiatura punto secondo i file vengono copiati esattamente con la stessa struttura del nostro finder quindi se io voglio andare domani a recuperare qualche cosa nella disk di backup dove vi siede il backup realizzato dal carbon copy cloner io troverò un file esattamente come ce li avevo sul mio hard disk quindi non ho necessità di carbon copy cloner per andare a recuperare i file che sono residenti inoltre è un backup cumulativo quindi copia ovviamente nei backup successivi soltanto i nuovi file ed eventualmente aggiorna i file vecchi in maniera tale che io comunque abbia sempre da un lato tutti i nuovi file che io ho creato sul mio computer ma anche ovviamente i precedenti ed eventualmente quelli che io ho aggiornato carbon copy cloner quindi è un'ottima soluzione tuttavia un buon sistema di backup non può limitarsi ad avere una copia dei vostri file sul vostro disk interno del vostro computer quindi il vostro la vostra memoria di massa di lavoro e avere una copia su un disco esterno localmente cosa intendo dire localmente quindi esattamente dove si trova anche il vostro computer perché questo beh ma immaginiamocelo arriva un ladro in casa vostra vi ruba computer e anche il vostro disk magari oppure per carità ovviamente facciamo le corna però sono eventualità che dobbiamo comunque di cui dobbiamo comunque tenere conto vi va a fuoco la casa per esempio o accidentalmente vi cade che solo dalla scrivania il computer ma anche la disk che ci avete attaccato con il cavo che sta facendo il backup boom in un colpo solo quindi si danneggiano tutte e due le fonti dove voi avete archiviato i vostri file e questo ovviamente dobbiamo in tutti i modi evitarlo come si può evitare questa cosa unitamente quindi a un backup locale è assolutamente opportuno avere anche un backup in remoto ossia un backup che non risieda dove risiede fisicamente anche il vostro computer ma sia allocato altrove in maniera tale che le eventualità seppur remote che ho citato poco anzi anche se si verificasse sicuramente io avrò comunque da un'altra parte una copia di sicurezza come faccio a realizzare una copia in remoto bene ci sono tanti servizi uno di questi per esempio è utilizzare dropbox dropbox penso che molti di voi lo conosceranno e lui stesso oggi vi permette di fare un backup della vostra home del vostro computer quindi praticamente tutti i documenti come pure anche della vostra scrivania direttamente nella cloud quindi nello storage online in questo caso di dropbox guardate vado in dropbox vado a scegliere le preferenze relative al mio account e potete vedere che abbiamo a disposizione adesso la possibilità di attivare il backup del vostro computer direttamente nel vostro storage di dropbox così facendo significa che lui fa di tutto quello che voi avete all'interno della vostra home e anche della vostra desktop ne farà una copia online oltretutto lo fa anche conservare naturalmente anche i documenti vecchi ma addirittura creando anche un versioning cioè la possibilità di un file che viene backupato anche di recuperare le versioni precedenti rispetto all'ultima che è stata archiviata e questo è davvero molto molto potente e molto molto ben fatto perché anche qui una volta che voi avete attivato questa funzionalità boom vi dovete dimenticare di dove fare un backup perché sono i servizi di dropbox che lo fanno quindi letteralmente se io ho attivato questa funzionalità potete vedere vedere che se vado a vedere i miei file su dropbox avrò una directory che è il mio mac che io vedete come vado a selezionare avrò la mia cartella di desktop dei documenti e anche di download e quindi sono veramente tutelato diciamo dalla eventuale perdita di miei file personali anche attraverso lo storage online di dropbox in generale posso aggiungere che personalmente ritengo quasi più sicuro di per se stesso l'utilizzo di uno storage online rispetto ad uno locale perché avete mai sentito che che so un servizio sulla cloud abbia fatto perdere dei dati a qualcuno è veramente un'eventualità molto più remota che questo succede rispetto al fatto che vi possa invece si possa invece rompere il vostro hard disk localmente perché perché i sistemi di storage di tutti i vendor come microsoft google dropbox apple hanno una struttura di ridondanza e di sicurezza veramente elevatissime quindi sono dei sistemi veramente molto molto affidabili quindi sotto questo punto di vista appoggiarsi ovviamente sui servizi sulla cloud anche per quanto riguarda i nostri file ci garantisce una maggiore affidabilità in termini di backup rispetto a un dispositivo locale certo se volendo c'è tutto un discorso legato al mondo della sicurezza della privacy che si potrebbe affrontare ma non è questo il caso io personalmente mi fido e quindi uso dropbox per fare anche il backup online c'è unitamente a questo però anche un altro prodotto che io ho scoperto recentemente che mi è molto piaciuto questo prodotto si chiama acronis true image acronis true image è un applicativo che vi permette praticamente di fare entrambe le cose che mi avete visto appena fare poc'anzi cioè vi permette sia di gestire dei backup localmente ma anche di attuare e realizzare dei backup online attraverso uno storage online andiamo a vedere quindi brevemente questo questa applicazione bene qui potete osservare che in questo momento io sto attuando e questo avviene anche qui in maniera completamente automatica il backup del mio computer attraverso acronis true image sia su due hard disk separati quindi uno che ho per esempio in ufficio e uno che ho a casa e in più anche un ulteriore backup nella cloud perché acronis true image esiste anche una formula di abbonamento che vi mette a disposizione una certo quantitativo di terabyte disponibili per fare il backup online e la cosa che a me piace è che quindi è un applicativo solo quindi è un unico strumento col quale veramente potete automatizzare completamente il backup locale e remoto tuttavia true image ha anche dei plus veramente sorprendenti dal mio punto di vista innanzitutto oltre quindi al backup che naturalmente noi possiamo programmare a nostro piacimento nella misura che vogliamo abbiamo anche a disposizione uno strumento di protezione da malware e da virus sempre all'interno di acronis true image e questo è senz'altro un plus che per esempio altri applicativi o servizi legati al mondo del backup non hanno un altro aspetto che mi è piaciuto da matti di acronis true image e anche la possibilità che lui vi offre di far sì che il backup locale su un disco venga predisposto anche per essere utilizzato come unità di recovery disk che cosa intendo dire intendo dire che in questa maniera io ho sempre un disco di cui acronis su image ha predisposto una partizione per renderlo bootable per lanciare quindi il sistema di installazione e di recovery di macOS 10 significa in questa maniera che se malauguratamente mi si rovinasse diciamo il mio computer e devo magari riformatare il disco e ripristinarlo io posso utilizzare questo disco esterno che acronis true image sta utilizzando come disco di avvio per l'installazione del sistema operativo e nel contempo ho la partizione dove true image ha realizzato anche il backup del mio computer che viene visto sostanzialmente come se fosse un backup di time machine e quindi attraverso questo disco io posso non solo per installare quindi la macchina ma di pristinarla esattamente come era prima dopo il disastro e questa è un'altra cosa che rende veramente true image molto molto produttivo e molto interessante fondamentalmente per capirci fa quello che ha sempre fatto carbon copy cloner però lo fa sulla base di un processo di backup inoltre anche qui abbiamo la possibilità di attuare come fa carbon copy cloner un clone della mia macchina su un disco esterno e così facendo quindi l'operazione di clonatura fa sì che tutto quanto è residente sulla mia macchina quindi anche quelli che sono tutti i file di sistema vengono ricopiati tali e quali e quindi quel disco esterno lì anche diventa bootable quindi avviabile con esattamente come lo è il disco interno del mio computer inoltre offre anche una piccola utilità se vogliamo di archiviazione con cui voi potete dire ok prendi questi file copiamoli per esempio su questo hard disk o copiamoli nella nello storage sulla cloud e dopo che le copiati dal mio disco interno me li rimuovi in maniera tale che io abbia a disposizione spazio libero questo per dire brevemente oggi personalmente come sto utilizzando sistemi di backup riassumendo ed è questo diciamo anche il l'augurio che io mi faccio che voi stessi seguiate scrupolosamente dei criteri con cui fare il backup delle vostre macchine perché niente peggio della possibilità di perdere il frutto del vostro lavoro per non parlare magari per esempio anche i ricordi legati alle vostre fotografie che magari sono residenti sul vostro computer il fatto soltanto il pensiero di perdere queste informazioni questi ricordi questi documenti insomma il vostro lavoro è veramente un qualcosa da cui bisogna proteggersi quindi riassumendo utilizzate un sistema di backup che sia sia locale che in remoto quindi fondamentalmente dovete avere sempre due almeno due copie di quello che è residente e che utilizzate all'interno del vostro computer ed inoltre utilizzate un sistema come quelli che io vi ho illustrato che sono veramente efficaci che vi permettono di fare il backup senza un intervento da parte vostra deve essere un processo completamente automatico e che non richieda l'intervento e l'iniziativa della persona perché se così deve essere è garantito è proprio scritto nel loro che il backup o non lo si fa o lo si fa in maniera troppo estemporanea troppo magari intervallata tra un backup e l'altro tale per cui il rischio comunque di perdere dei dati è sempre presente spero che questa cosa sia stata interessante e auguro a tutti un backup il backup